Ciao a tutti, sono Luisa, ho 11 anni e sono la fidanzata di Francesco Paolantoni. Luisa me l'hanno regalata, era una gattina piccola, 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 mi hanno fatto vedere una sua foto meravigliosa, mi sono innamorato all'istante e me la sono portata a casa. E abbiamo un rapporto meraviglioso anche perché viviamo insieme da soli, io e lei, vero? Luisa mi assomiglia molto perché è indipendente, è simpatica, è autonoma, insomma proprio simili simili simili, in simbiosi praticamente. Lei ha un grande talento d'attrice, è una gatta che parla, c'è il miagolio del cibo che fa, che è abbastanza distaccato in uno o in uno d'altro, c'è il miagolio di quando mi vuole attirare sul terrazzo, c'è il miagolio di quando si scoccia per esempio, che io lo accarezzo un po' di più e fa mia e sarà l'altro. Il mondo dei gatti è fantastico perché a parte il fatto che è un animale magico, intanto non è vero che il gatto non si affeziona, non è vero che il gatto non ti segue, non è vero che il gatto è solamente egoista, ha delle esigenze, ma non ti prega per fare le cose. Luisa era una trovatella, una trovatella che io ho adottato immediatamente. Adottiamo cane, gatte, tartarughe, conigli, maiali, maialini pure assai domestico, molto affettuoso e anche intelligente. Ciao ragazzi da me e da Luisa, a tutti gli animali, a te Michela, a tutti gli amanti degli animali, mi raccomando, amiamoci. Come si dice, più conosco gli umani e più amo gli animali. Ciao!